La Poti Picture è una casa di produzione davvero fuori dal comune. Nasce per gioco all'interno di un'associazione di volontariato e inizia a produrre cortometraggi e lungometraggi che vedono come protagonisti ragazzi con disabilità. La Poti Picture è divenuta nel tempo una realtà importante e solida. Il regista Daniele Bonarini ci presenta il nuovo progetto di casting. Con la Poti Picture Academy avvieremo nel mese di ottobre una nuova classe destinata a nuovi ragazzi con disabilità e in questi giorni è partita la call ai casting. Una persona si può candidare, mandare il materiale e poi nel mese di fine agosto chiameremo per presentarsi ai casting che avverranno all'inizio di settembre. Il percorso inizierà dal mese di ottobre e avrà durata di diversi mesi fino ad aprile dove si farà per una settimana formazione e nel mese di maggio poi gireremo un cortometraggio con professionisti del cinema il luogo e date ancora da concordare però l'idea è quella di girare proprio nei primi giorni di maggio. In particolar modo ci rivolgiamo un po' a quelle persone che solitamente sono etichettate come disabili, come 104 quelle che solitamente avrebbero una porta chiusissima in faccia quel mondo del cinema è un mondo veramente settario e terribile da questo punto di vista noi possiamo, perché l'esperienza ce l'ha insegnato, offrire questa opportunità un'opportunità di realizzare un sogno perché poi il cortometraggio non si ferma lì il cortometraggio verrà distribuito nel circuito dei festival internazionali avrà proiezioni pubbliche importanti, possibilità di andare in giro per il mondo si spera anche una seconda della situazione pandemica e non solo quindi sì, è un sogno che noi coltiviamo da sempre e cerchiamo di condividerlo con quelli che poi faranno parte del progetto. Sara Borri è una psicologa che all'interno della Potipicture ha un ruolo importante e allo stesso tempo delicato. Sì, diciamo che trattiamo con persone con disabilità quindi tutto deve essere garantita, cioè la loro sicurezza, la loro tranquillità sia durante le lezioni che durante il set deve essere garantita. Lavorando con professionisti del cinema non sempre questo è possibile perché non ci sono abituati, quindi diciamo che la mia figura è un po' quella di accompagnamento del disabile in tutte le fasi della preproduzione e produzione. È una sensazione di dignità perché quello che loro fanno il lavoro che fanno insieme a noi, il lavoro che facciamo insieme è equiparato, tanto è lo sforzo nostro quanto è lo sforzo loro tanto è l'impegno nostro quanto il loro quindi siamo paritari e questo è dignitoso fondamentalmente poi la dignità dà la felicità e tutto il resto, ma questo a tutti. Il nostro modo di raccontare la disabilità è molto ironico vogliamo essere ironici e trasmettere quella che è una leggerezza della vita fondamentalmente perché spesso la disabilità viene vista in maniera molto pesante a volte pietistica o comunque sia nel dramma mentre invece c'è l'aspetto leggero e bello in tutti e quindi perché non farlo vedere? C'è l'aspetto ironico e divertente in tutto e quindi sì, lo vogliamo rappresentare. A questo punto non resta che spiegare a chi ci segue come poter avanzare la propria candidatura. Sì, sarà sufficiente mandare una mail a potipicturesacademy.com o seguirci su tutti i nostri social, comunque ci sono tutte le indicazioni e a quel punto il nostro staff risponderà e vi darà tutte le indicazioni necessarie per candidarsi ai casting.